ma sul campo sta succedendo che le ambizioni dello stato maggiore russo e quindi del governo russo ci sono ridimensionate perché c'è stato il ritiro da kiev perché un attacco su tre direttrici non era sostenibile da parte delle forze russe perché c'è stato questo ritiro dakar kiev perché neanche su due direttrici l'esercito russo riesce ad avere quella spinta necessaria per conseguire dei risultati e quindi le tutte le forze vengono concentrate sul settore del donbass diciamo sud orientale oltretutto con l'apporto delle forze che a mariupol hanno assediato per tutto questo periodo questa ormai famosa acciaieria e che possono essere resi disponibili per incrementare le capacità operativi questo vuol dire che sta diventando sta per diventare più forte l'armata russa la questo vuol dire che le capacità russe sono incrementate ma nel frattempo sono state anche erose da questa guerra di posizione con un uso veramente importante delle artiglierie e le artiglierie sono quelle che colpiscono le retrovie e in qualche modo impediscono a chi è all'avanguardia di essere alimentata e quindi di poter spingere quindi diciamo che da un lato c'è un rafforzamento ma questo rafforzamento è stato in qualche modo eroso da questa guerra di posizione che che a cui stiamo assistendo allora tatiana cuccareva lo faccio vedere a lei grazie a tutti